Salve, benvenuti di nuovo al Muppet Show! E il nostro ospite d'onore stasera è uno degli artisti più dotati ma più terrorizzanti del mondo, Alice Cooper! Perché non è il tuo capo che io non vendo l'anima neanche se mi paghi? Perché non possiamo avere niente di normale nello show di stasera? Ti vendo l'anima per una penna, no per quelli o altri progetti. Lei, signore, è un demente. Un malato, un degenerato, un barbaro, un trusino. Beh, grazie. Bisogna ammettere che i motivi sono orecchiabili. Come lo dite, eh? Velo lì, hai incontrato con il diavolo? No, molto peggio, Kermit. Questo è il conto degli effetti speciali.